Si chiude la due giorni del presidente Alberto Cirio nel VCO, con l'incontro con le penne nere nella sede in via Spezia a Domodossola. Ieri mattina, Formazza è stata la prima tappa del presidente della regione per l'inaugurazione della cabina di telemedicina, poi ieri pomeriggio Cirio ha visitato il Castelli di Verbania ed ha tenuto un incontro con la sezione degli Alpini di Intra. Questa mattina è stato accolto nella sede della sezione Ana di Domodossola. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno. Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.